Siamo insieme al capitano dell'Italia Marco Riccioni, un peccato perché con l'Irlanda siamo andati vicinissimi a questa vittoria, avete perso di un punto e tra l'altro quel palo che poteva dare il vantaggio poteva essere davvero il punto che dava veramente un significativo vantaggio per gli azzurri. Sì, questa fa sicuramente più male l'altro contro il Galles perché è stata persa di un punto, più che il palo che non si possono dare colpa al calciatore, magari le due mete che abbiamo subito in modo abbastanza semplice, queste sono cose che dobbiamo migliorare ma le miglioreremo, l'importante è che la squadra abbia legito bene su tutte le volte che siamo andati sotto e quindi io sono contentissimo con la mia squadra. Di tutti veramente, anche di chi magari non era al meglio, penso di essere al meglio, sono veramente orgogliosi e contenti tutta la mia squadra. Un grande pubblico, vi ha sostenuto, vi hanno citato fin dall'inizio, insomma questo fa piacere. Sì, sì, assolutamente, c'era tanta gente e penso che anche loro ci hanno dato una grande mano da fuori. Abbiamo sentito molto il pubblico nei momenti di fomento nostro perché ci sono questi momenti in partita e sì, sicuramente un grande pubblico anche qui. Prato, insomma, ha una tradizione importante per il rugby e l'ha dimostrato anche oggi. Sì, sì, assolutamente, quando siamo arrivati qui si respirava già il rugby da quando siamo arrivati, in più mi ha anticipato qualcosa, Giovan Kelly che gioca con me il Calvisano, quindi veramente tanta, c'è passata tanta storia da qui. Noi infatti non per caso abbiamo fatto un'ottima partita oggi. Grazie. Grazie.